Tino, io vorrei affrontare un tema nel capitolo di Aesthetic Franco molto molto delicato, un tema che riguarda un medico, un ottimo medico, che è stato tirato dentro in questa storiaccia proprio da Antonio Franco, al quale Franco indirizzava le pazienti quando a un certo punto, carotino, un troppo e troppo, e ne ha salvate tante questo medico, ne ha salvate davvero tante, un medico che si occupa anche di chirurgia plastica ed estetica, un medico che è stato tirato in ballo, lo avete sentito negli ultimi video, questo medico qualche volta veniva definito il mio sostituto, chiama il mio sostituto, invece il sostituto non è, anzi, questo medico ha operato in qualche circostanza nella clinica Iatropolis di Caserta, dove noi siamo pure stati in abbinamento a questo Antonio Franco per pochissimo tempo e quindi alla fine si è fatto l'idea che questo potesse essere il suo salvatore perché gli ha tolto diverse castagne dal fuoco. Noi abbiamo fatto arrivare il messaggio a questo medico sul fatto che lo stavamo cercando, capiamo la sua difficoltà, riteniamo sia doveroso quando è necessario anche sottolineare le posizioni delle persone coinvolte, fermo restando che noi restiamo a disposizione, lo diciamo ancora, di Antonio Franco, del suo avvocato, di Gingilla, di Catalina, di Aiduci, di Michele Falcicchio, di chiunque volesse dire la sua, noi ci proviamo sempre perché è un nostro dovere, purtroppo non si sa perché nel nostro caso non arriva nessuna smentita, nessun tipo di lettera, forse perché la prima volta non siamo stati così malneabili da accettare l'invito, l'obbligo era in quel caso a non pubblicare, oppure perché ci ha, ti ricordi Tino, ci ha accusati di averlo ricattato in cambio del silenzio, per la mancata pubblicazione dei video, non è così, quindi noi restiamo a disposizione di chiunque e anche di questo medico che in qualche maniera ci ha fatto arrivare quella che è la sua posizione in merito a questa storia. Non so se questo sia effettivamente il medico che ci scrive, ma abbiamo avuto modo di verificare quello che ci è stato raccontato e nel 100% di quello che abbiamo letto abbiamo trovato riscontro. E quindi riceviamo questo messaggio a tarda ora, premesso che la seguiamo tutti in ospedale, e qui non riesco a capire se è lui o non è lui, Tino, compreso il primario, Tino ci segue il primario? Non è un primario, sono più primari che ci seguono, io non so come devo fare con te. E grazie a lei siamo venuti a conoscenza della portata del caso Franco. Alcune pazienti mi hanno segnalato il video, facendo nomi e cognome, ed effettivamente è un video di cui ci siamo occupati. Vorrei chiarire con lei che fra il medico in questione e Franco non c'è alcuna complicità, semplicemente hanno avuto modo di conoscersi su richiesta della clinica che cercava un chirurgo esperto e di fiducia con cui questo giovane chirurgo barese potesse fare interventi di chirurgia maggiore. Meno male che mai fatta una lipo insieme, solo un paio di interventi chirurgici. Esperienza durata pochissimo. Da questa conoscenza lavorativa l'unica colpa, a quanto ci riferiscono, di questo medico tirato in ballo, è stata non chiudere la porta a pazienti in difficoltà, perché oggi tutti a caccia delle pazienti di Franco, un anno fa tutti o quasi a rifiutarle. Il medico avrebbe trattato in tutto una decina di pazienti, di cui 4 o 5 serie, da giugno a settembre dell'anno scorso. Pazienti operate con altri chirurghi in Puglia, carotino. Poi non avrebbero avuto modo di ricevere altre richieste. Forse perché le pazienti una volta guarite hanno optato per la via giudiziaria, può anche essere questo, perché ovviamente per la via giudiziaria bisogna, come abbiamo detto più volte, farsi fare una perizia da un medico legale che possa certificare il danno eventualmente ricevuto. Fino a quella paziente in particolare, che tra l'altro è stata segnalata al dottore dai colleghi in ospedale durante il suo accesso in pronto soccorso, sapendo che la sua attività fosse quella della chirurgia plastica e rigenerativa. Quindi ecco perché poi si è ritrovato questo medico ad avere a che fare. Fa il medico per aiutare il prossimo, può cercarlo tranquillamente sul web e vedere cosa ha fatto in passato. Negli anni ha lavorato ricevendo il rispetto dei colleghi più anziani ed esperti e non senza sacrifici, quelli che vanno fatti per riuscire ad arrivare ad avere una fama di quelle accettabili e dignitose, per poter avere poi modo di curare più pazienti possibili, non clienti, ma pazienti. È una persona umile, le posso garantire, e non è in cerca di notorietà. Vorrebbe che il suo lavoro parlasse da sé, pertanto la pregherei, dice questo signore, dichiarire l'equivoco nei prossimi video omettendo il mio nome, e noi lo facciamo certamente per rispetto, non sapendo neanche se questo effettivamente è il medico oppure no, o qualcuno a lui vicino. Tanto tutti sanno che a Napoli quelle pazienti le ha curate lui. Capito Tino? Certo. Infine so che qualcuna l'ha contattata e qualche altra ha commentato il video della paziente in questione. L'ammiro per il lavoro che svolge, la prego di permetterci di continuare a svolgere il nostro, perché la mamma degli haters e anche degli stolti è sempre gravida. E come darvi torto? La ringrazio, quando sarà a Napoli mi farebbe piacere conoscerla e offrirle un bel caffè. Beh, a Napoli vale la pena. A Napoli vale la pena e io, se questa è una persona effettivamente vicina al medico in questione, ben volentieri mi recherei a Napoli per conoscerli tutti e due, uno solo, perché ormai non si capisce più niente, capito? Non si sa bene bene chi è. Però da quello che scrive, da ciò che abbiamo chiesto, da ciò che siamo riusciti a sapere, Tino e sai che quando Sherlock Holmes non c'è segreto che tenga, assolutamente. Le nostre fondi sono blindate, prendiamo atto di questa testimonianza e restiamo oltremodo a disposizione di chiunque volesse chiarire e oltremodo specificare qualsiasi cosa su questa vicenda. Quindi mi stai annunciando che prima o poi andremo a Napoli in questi giorni? Prima che poi. Ah, prima? Sì. Te lo ho detto, io così voglio dirti le cose, condividendole con la nostra community. Seba l'andana, ecco, io non posso dicerlo. Amaci, Tino, dobbiamo andare. Il dovere ci chiama. Gino, dite chi, se avete la bomba sotto la macchina, così è sculcro e non ci muoviamo più. Senza te dentro, eh, non solo la macchina. Andiamo col treno. Cioè, prendiamo un ufficio più grande allora. Eh certo, matrimoniale. Le Werd. Grazie a tutti.